La musica, i ragazzi si sistemano un attimo, come potete vedere la banda giovanile quest'anno ha metà media molto di vasta rispetto al solito e questo è dovuto al fatto che molti dei ragazzi che magari l'avatevi fatto a vedere negli anni scorsi sono transitati in barca grande quindi in filarmonica con noi e quindi adesso è stata rimescolata dalla linea insieme alla banda giovanile verso il nostro nuovo gruppo ovviamente c'è ancora qualcuno che le ha una mano perché i ragazzi comunque hanno bisogno di supporto, tra cui i ragazzi che potrebbero suonare con noi sono anche in barca giovanile Ok, l'ultimo brammo di oggi è l'Orientale Odretu di Elitami, dirigente maestro Roberto Battistella Grazie 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 Applausi Bene, anche per quest'anno che ho giunto, io farei ancora una cosa, tutti i ragazzi che non sono andati, Grazie.